E l'isir donna, uno sguardo femminile sull'universo. E questo è il senso dell'ultima opera della scrittrice Corinne Renzullo, sessa pubblicazione della casa editrice Skarens, recentemente costituitasi proprio nel Golfo di Policastro. Il romanzo si intreccia attorno alle figure di tre amiche, ritrovatesi dopo tanti anni e finite per ripercorrere le vicissitudini della loro vita, dopo il là dato dalla domanda. Se poteste tornare indietro, cosa cambiereste della vostra vita? Le caratteristiche di questo romanzo, dal complesso intreccio che finisce per attraversare lutti, tradimenti, tracolli finanziari, amori e colpi di fortuna, sono state messe in risalto dai relatori, che hanno preso la parola alla presentazione del libro, tenutasi presso il ristorante Luorto a Policastro Bussentino, ormai trasformatosi anche in luogo di ritrovo culturale pomeridiano. Il giovane sociologo Giacomo Cogliandro ha esordito tratteggiando le tre figure e protagoniste di Elisirra donna e ha posto una riflessione sulle trasformazioni subite dalle donne di oggi, forse meno concentrate sulla famiglia e meno stabili degli esempi proposti dal romanzo. Il professore Pino Magliano, anche lui autore, ha raccolto le sue impressioni, sottolineando come già il titolo dell'opera racchiude in sé il senso del romanzo. Con una dotta e piacevole relazione, ha fatto notare come il termine Elisirra indichi la pietra filosofale pronta a trasformare i vili metalli in oro. Il romanzo, ha detto, è incentrato sulla trasformazione, sul cambiamento e sull'esperienza che è sapere di vita, oro, ricchezza che cambia e muta. L'ex dirigente scolastica Evidea Ferrara, invece, con una partecipata presentazione, ha messo in evidenza la sensibilità dell'autrice, che vive e soffre con i suoi personaggi e finisce per coinvolgere i suoi lettori. Notevole capacità introspettiva, ha detto, intreccio sapiente ed incalzante di avvenimenti personali e storici sullo sfondo, ne fanno un romanzo psicologico e storico che costringe a fare conti con se stessi, come fanno le protagoniste, suscitando molteplici riflessioni anche sulla trasformazione dei costumi avvenuti nel ventennio preso in considerazione dell'autrice. A dare un saggio delle qualità del romanzo durante la presentazione del libro, condotta dalla giornalista Ambra Scarpita, è stata la lettura di parti dello stesso, proposta da Filomena Giudice dell'Associazione Artisti per Caso.